Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per effettuare un quiz manga, ovvero domande a tema anime, manga, Giappone in generale. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e anche di seguirmi sugli altri social, naturalmente se diva, anche se sono probabilmente meno attiva, devo dire la verità. Detto ciò, possiamo cominciare. Da quanti anni leggo manga? In realtà da poco, nel senso che io mi sono svegliata tardi, ho iniziato ad approcciarmi alla lettura dei manga solo, diciamo, intorno ai 20-21 anni, quindi stiamo parlando all'incirca di due anni e mezzo fa, e devo dire che sono stata molto contenta, infatti per il momento la mia passione sto solo aumentando e non diminuendo. Naturalmente la seconda domanda non poteva che essere quanti manga posseggo. Allora, calcolando che sono una studentessa universitaria, quindi ci sono spese universitarie e non, calcolando anche che leggo da due anni e mezzo a questa parte, e calcolando anche, non so quante volte abbia detto calcolando, che nel primo periodo sì, mi piaceva leggere i manga, diciamo nel primo annetto, però non era così tanto fan svegatata, mentre adesso lo sono. Lo sono abbastanza, diciamo così. All'incirca ho 300 volumi, più o meno, nella mia casa, perché lo scorso mese mi venne voglia di contarli, per capire un po'. Dall'anno scorso a quest'anno sono riuscita a aumentare i volumi di manga, ad acquistare più roba, a leggere anche più roba, perché poi ho calcolato quante letture ho fatto, e effettivamente è così, quindi io sono molto contenta. Devo dire una cosa, naturalmente ho il desiderio di acquistare tanti volumi, tanti manga che abbiano un senso. Ecco, mi sono resa conto, cioè forse è un autocontrollo che momentaneamente ho registrato, di non comprare serie o primi volumi di serie che già non mi intrigano a priori, solo perché magari viene detto che è un'uscita nuova per questa casa editrice rispetto ad un'altra, e che in Giappone magari viene osannato. Se a me non mi convince il primo volume, magari attendo, non lo acquisto subito, perché secondo me avere una collezione manga, dove metà della tua collezione, o un terzo della tua collezione, parlo di collezioni da più di mille volumi, di cui diciamo le storie non ti abbiano entusiasmato a priori, che senso averle? Cioè a me questa cosa non piace, cioè preferisco avere delle storie che almeno mi intrigano all'inizio, che poi ci può stare che i giapponesi lo facciano andare in rovina il manga, però ti deve interessare, cioè non mi va di comprare manga che non mi piacciono, ok? Anche perché poi questo freno, che sarà anche dovuto al fatto che io debba recuperare tantissima roba classica di autori, nel senso molto importanti, faccio l'esempio anche di Gonagai, o di Urasawa, o di Tezuka, cioè devo recuperare tantissimi autori, quindi piano piano penso che ce la farò. Proseguiamo con il miglior manga letto. Allora, io di solito evito di essere assoluta nelle mie scelte, perché effettivamente ci sono dei manga che valgono tanto, che sono veramente ben scritti, ad esempio posso citarvi un Buonanotte Pum Pum, oppure un Monster di Urasawa che ho letto, e mi piacciono entrambi, diciamo proprio a livello numerico, se dovessi dargli un voto. Però non lo so, fate quello che volete, però a me piace da impazzire, cioè per me supera tutti per il momento, cioè la lettura proprio migliore che ho fatto, il manga che mi è entrato nel cuore, mi ha fatto stendere sul pavimento del bagno, mi ha fatto piangere le migliori lacrime della mia vita, e ancora ce ne sono da versare, è appunto Banana Fish, cioè Banana Fish di Akimi Yoshida ragazzi, per chi non l'avesse letto, fatelo, cioè veramente il nome, lasciatelo perdere il titolo di questa serie, e lasciate anche perdere magari che il target è quello dello shoujo, perché vi assicuro che è una storia veramente ben costruita, vi ricordo che vi farà piangere questo sì, e che costa pure, perché effettivamente la nuova edizione costa, se non mi ricordo male, all'incirca 18 euro volumi, sì lo so, sono 10 volumi, sono 180 euro, è una bella spesa, è una grande spesa, però se potete, nel senso, evitate magari di comprare delle serie che sì, leggete, però non vi convincono, ma comprate questa, perché è veramente, ma veramente ben fatta, se vi dico che è una storia che vi rimarrà impressa nell'anima da mo' a sempre, è così. Peggior mangaletto, devo dire che sono stata abbastanza fortunata, nel senso che in libreria non ho manga proprio brutti, 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 nel senso che io dico questi non li rileggerò mai, oppure questi veramente sono così brutti da prenderli e venderli, ok? No. Però ci sono quattro manga che mi hanno deluso, parto col primo che è Your Name, una miniserie di tre volumi, ma la mia delusione probabilmente è colpa mia, perché io vidi prima l'anime e poi comprai il manga, e aspettandomi chissà che cosa dal manga, cioè pensavo ci fosse qualche evento in più, qualche personaggio, diciamo un po' più caratterizzato, invece no, cioè è esattamente la stessa cosa. Quindi per chi avesse già visto l'anime, io vi sconsiglio di comprare il manga, perché non serve a niente, cioè è esattamente la stessa cosa. Per chi magari invece ha comprato prima il manga, ci sta, vedetevi l'anime, perché è identico, però le animazioni comunque sono belle a colori e ben fatto. Il secondo invece è uno shojo, stiamo parlando di Yosaki Saka con Un passo da te. Ok, probabilmente qua avrò, percepirò l'ira di alcune ragazze, o ragazzi in generale, però il problema di Yosaki Saka è che la serie è partita bene, cioè perché io vi di prima l'anime, mi sa che adattarono la prima parte del manga, perché poi non è più continuato l'anime. E quindi ho deciso, dopo anni e anni che vi di l'anime, di comprare il manga. E la prima parte del manga, quindi parlo dei primi 6-7 volumi, mi sono piaciuti, nel senso io mi aspettavo la comedia romantica, scolastica, e ci sta benissimo. Cioè è veramente carino. Cosa succede poi? Gli ultimi tre volumi, assolutamente inutili. Triangolo amoroso, assolutamente inutile, perché la protagonista è il protagonista. Si sa che vanno a coppia insieme, che tu mi metti un altro cristiano, che lei si vede che non ama, cioè si vede lontano un miglio, che lo vede forse neanche come un amico. Perché ci mettete questa storia di mezzo, che non serve assolutamente a niente, e va via, tarta, alberi che muoiono, non ha senso, eppure lo fanno. Stessa identica cosa con Tocchio di Avengers, che è il numero 3, di cui ho parlato veramente tantissimo. Il problema di Tocchio di Avengers è stato che è partito col botto, a me piaceva tantissimo, potete dirmi quello che volete, a me piaceva tantissimo. Poi è andato a perdersi completamente, il finale molto discutibile, penultimo arco narrativo assolutamente inutile, ai fini della storia, e poi che altro ha il personaggio di Rakimichi, che secondo me non è stato ben caratterizzato fino alla fine. Quarto e ultimo manga, che non mi ha fatto impazzire, è stato appunto Darling in the France. Io vidi l'anime nello stesso tanti anni prima, stessa cosa quindi di Yosaki Saka, e mi piacque l'anime. Quindi non mi aspettavo di leggere un Darling in the France, chissà quale storia profonda è, no, però giusto per leggerlo, perché mi piaceva, mi intratteneva, e mi ricordo che il finale dell'anime mi piace molto. Ebbene sì, l'anime si discosta dal manga ad una certa, e fa pure bene, perché io ho preferito molto di più l'anime. Il manga, intorno al volume 6, 7, 8, accelera in una maniera micidiale la storia, il finale è così sbrigativo, e posso dire pure a Taralucebino, che era forse la cosa che mi aveva più colpita di Darling in the France quando vidi l'anime, e che mi aveva spinto a comprare il manga. Cioè, magari è stato un errore mio, che non mi sono informata prima, che nel manga e l'anime avessero due finali diversi, però anche il manga, cioè, veramente, ad una certa, accelera in una maniera incredibile. I personaggi secondari del gruppo di ragazzi che erano caratterizzati nella seconda parte dell'anime quando vengono caratterizzati nel manga, perché naturalmente c'è un accelerando micidiale. Quindi, boh, sono rimasta un po' delusa. Quinta domanda, preferisci anime o manga? Allora, in linea generale, non ho una preferenza netta tra anime e manga. Naturalmente ci sono volte in cui l'anime è nettamente migliore, anche a livello di grafica, esempio eclatante di Moonslayer, oppure volte in cui il manga e l'anime sono simili, esempio Your Name, volte invece dove magari il manga è meglio fatto, diciamo, rispetto all'anime. Faccio l'esempio di Urasawa, questo è un parere personale, Monster, io l'ho preferito più come manga che come anime, cioè, proprio parlo di grafica in generale. Però, devo dirvi una cosa, e una cosa che faccio, ok? Se esiste l'anime, prima di acquistare il manga, io vedo almeno la prima stagione, perché se la prima stagione dell'anime mi garba, so che comunque deve essere in linea con il manga, acquisto il manga. Se invece non mi piace già la prima stagione, ci penso su, magari aspetto un attimo prima di acquistare il manga. Non so voi, ecco, fatemi sapere qui sotto nei commenti, nel caso in cui esiste l'anime di un manga che dovete acquistare, voi vi vedete prima l'anime, oppure vi acquistate direttamente il manga? Il genere di manga preferito? Forse, forse, è il seinen. Però, perché io dico forse, forse, perché a me piace variare, cioè nel senso che a me piacciono gli shoujo, mi piacciono anche molto gli shonen, e anche i seinen, cioè i seinen mi piacciono. Però, perché devo dire, mi piacciono anche i thriller, ultimamente ho scoperto l'horror, per quanto riguarda i manga, quindi sto parlando di Junji Ito, e probabilmente di Gannibal che sta là sopra, però non l'ho ancora letto Gannibal, devo dire la verità, quindi non posso ancora citarlo effettivamente, e poi i BL, cioè io leggo un busy love, naturalmente molto di meno, perché molto spesso le storie non sussistono, non sussistono, esistono i due che fanno roba e basta, oppure i due che hanno una storiella, classica, scuola di Gannibal, che ne mette due o tre, anche no, comprare ecco i volumi, però diciamo che mi piace molto variare. In generale, forse l'ultimo, o l'unico più che altro, target, che non mi fa impazzire, e che non leggo molto, è lo Spokon, però probabilmente in futuro, gli darò una seconda possibilità. In questo caso, il video potrebbe durare seriamente due o tre ore, perché ho da recuperare tanta 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 roba, però tra gli acquisti mensili, poi di tanto in tanto esce qualche chicca, qualche artwork, oppure che so, qualche oggettino carino, e quindi li compri, che fanno li compri, quindi i recuperi piano piano, diciamo riesco a recuperarli, però molto molto lentamente. Vi faccio, vi cito più che altro, giusto qualche nomignolo, ma giusto qualcuno, partiamo qua sotto l'elenco, giusto, perché sennò veramente mi perdo, Jujutsu Kaisen, poi abbiamo Gleam, poi c'è anche, devo vedere perché non me li ricordo, Devilman, poi vorrei recuperare tutto sia di Asano, che di Urasawa, poi c'è Attack on Titan, Fomenta l'Alchemist, chi più ne ha più ne mette, quindi avete aggiungito, che vorrei recuperarlo tutto, quindi capite bene, che ho da fare tanti, tanti, tanti recuperi, cioè ho un foglio pieno, che poi penso, trasformerò poi in un video, di consigli per il nuovo anno, che devo fare a me stessa, e spero di non sclerare, perché mi viene l'ansia, di non avere tutte queste serie. Buoni propositi del 2024, ultima domanda, allora ne ho tre principalmente, in linea generale, il primo è molto semplice, molto basic, cioè leggere dai 100 ai 150 volumi, perlomeno, di manga, ce la farò quest'anno, non lo so, ci proverò, ok? La seconda, è quella di leggere Berserk, giuro che leggerò Berserk, ce l'ho qui sotto, ce l'ho, cioè ci sono 41 volumi, quindi non ho la scusa dei volumi, ce li ho, li devo leggere. E la terza, è quella di recuperare, almeno tre serie, diciamo, che devo recuperare, quindi non so, se riuscirò a recuperare qualcosa, di Urasawa, di Esano, oppure tutto Blame, magari, Mattakon Taita, non ne ho idea, Giujutsu Kaisen, vedrò, vedrò un po' cosa fare, cercherò di recuperare tre serie, ce la farò, non lo so, però ci proverò. E siamo arrivati alla fine di questo quiz, domande a tema manga. Spero di non avervi annoiato, naturalmente potete rispondere anche voi, a queste domande qui sotto nei commenti, così da avere anche un modo per confrontarsi, per quanto riguarda domande in generale, a tema manga anime, e noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di seguirmi, e di cliccare la campanellina, per essere sempre aggiornati. Ciao ciao!